ciao benvenuti alla video visita dell'appartamento di lorenzo e pucca il riferimento 1550 è una tipologia di abitazione molto gradita che cerca casa perché unisce indipendenza modernità e spazi abitativi pratici e sufficienti per una famiglia di tre o quattro persone inoltre siamo in una zona residenziale moderna e molto tranquilla con facilità di parcheggio un bel parco vicino e quando abbiamo bisogno siamo subito sulla statale così come in pochi minuti raggiungiamo le scuole la stazione o un supermercato ora seguitemi ed entriamo nel cortiletto privato comodo posto auto coperto apriamo il portoncino blindato e una robusta grata non si sa mai entriamo nel garage indispensabile spazio di servizio e anche riscaldato per essere una pratica lavanderia eccoci nel soggiorno luminoso e spazioso con affaccio sul balconcino anch'esso ben protetto dai malintenzionati eccoci ora nella cucina anch'essa abbastanza spaziosa e con annesso balconcino sul retro il bagno principale ben rifinito e completo saliamo al piano notte ma sardato ma abbastanza alto per poter accomodare sia armadi che finestra la parete e qui troviamo due camere matrimoniali il tutto completato da un pratico bagno di servizio abbiamo terminato la video visita nell'appartamento di lorenzo e tucca una soluzione abitativa moderna e di recente costruzione ottimamente mantenuta già perfettamente abitabile da subito il cui ingresso indipendente e l'assenza di spese condominiali oltre alla metratura interna lo rende molto più simile ad una tipica villetta schiera che non un appartamento se vi è piaciuta questa proposta mettete un like alla video visita e potrete misurarne tutte le foto e l'info del nostro portale www.agenziacontorini.it e in tutti i portali immobiliari italiani prima di salutarvi vi ricordo che potete contattarci per maggiori informazioni alla nostra infoline 0544 80462 e vi invito a seguirci su facebook youtube ed instagram cercando agenzia con terino vi lascio col nostro piano marketing e vi saluto ciao 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 ciao